Bella canzone, incontra Angelica Bove, seppure virtualmente, ciao! Ciao bella canzone, ciao! Come stanno andando queste giornate? Immagino frenetiche. Sì, frenetiche, ma fa il caso mio, perché sono così io, quindi mi piace, mi piace questa velocità. Pieni, impegnati, sul pezzo, sto bene. Quindi come ti stai preparando, sia psicologicamente, mentalmente, sia fisicamente, proprio a questo Serremo Giovani? Psicologicamente sto cercando il più possibile di rilassarmi, godermi quella che è comunque la mia vita di sempre, quindi il chill, i momenti con i miei amici, le bevute, le chiacchiere, la mia vita di sempre. Diciamo che do sempre priorità a quegli spazi lì, ma anche agli spazi con me stessa, quindi psicologicamente mi sto parando così. Punto di vista musicale, sto per il pezzo appunto, almeno una volta al giorno mi metto con le cuffie, e mi prendo il mio momento di dissociazione totale e mi ascolto il pezzo mentre guardo la vita scorrere. Quindi questa è una cosa che fa benissimo a me proprio dal punto di vista di immersione nel pezzo. E come hai reagito quando hai letto il tuo nome nella lista dei 24 cantanti? Molto molto felice, molto grata, ma non illusa, quindi molto senza aspettative, come dire, insomma. Molto felice di quel momento lì, però anche quando vivo queste cose sono sempre un po' non pessimista, realistica, ecco. Quindi dico, oh, adesso sei qua, domani dovrei fare quella cosa lì, fai con lo steppino lì. Molto tranquilla, molto, non proprio, oh mio Dio, salte di gioia. Cioè il salto di gioia lo farò in un momento preciso che non dirò. Però per adesso la vivo molto serena, sono tranquilla, voglio dare il massimo e quello è il mio focus. Quindi diciamo non te l'aspettavi, tu hai fatto la proposta, però insomma... Sì, ma io quando faccio le cose non mi aspetto mai niente, cioè una cosa mia, ma anche quando ho fatto X Factor, quando facevo i video su TikTok, lo faccio perché ho voglia di farlo, perché ho voglia di cantare, quindi fondamentalmente io faccio questo per quello, poi non è che sarebbe anche scemo da parte mia aspettarmi qualcosa, che cosa dovrei aspettarmi, non saprei neanche immaginarmi cosa aspettarmi, quindi la vivo proprio molto così. Intanto mi vivo la mia vita, faccio quello che voglio fare, poi se capita, dai, dai. A questo punto non so se ieri hai visto la puntata, dici magari mi tengo... Certo, l'ho vista. Ah, l'hai vista, ok. Forse, forse. No, dico magari, non guardo niente fino alla mia puntata, così almeno resto ignara. E io mica, no, 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 io subito devo sapere di che si parla, devo familiarizzare, cioè non ho neanche paura della televisione, per fortuna l'ho fatto, quello mi è servito anche a prepararmi a quello che è il mondo che ci aspetta lì fuori se le cose vanno bene, quindi non ho quella paura, non demonizzo quello che mi aspetta, quindi preferisco vederlo, tagliarmela come si dice a Roma, divertirmi e vedere come funziona, le dinamiche. Mi sono divertita nel guardarlo, è stato bello, i ragazzi sono stati anche molto molto forti, quindi sono molto contenta del loro percorso, cioè sono felice per loro, ovviamente. E appunto che cosa pensi di questo nuovo format legato a Serra Mon Giovani? Ma penso, su questa cosa ci riflettevo qualche giorno fa, che da emergenti ci sta delle volte permettere all'emergente di non fare il passo più lungo della gamba, cioè la formula è molto meno, come dire, ti spara molto di meno magari rispetto agli anni scorsi, gli anni scorsi da emergenti in un secondo, in un battito di ciglia, passavi subito alla gara dei big, passavi subito in quel mondo lì e secondo me non siamo proprio tutti pronti per fare una roba così. E quindi, certo, da una parte, se proprio devo essere sincera, era figo, era figa la formula di Amadeus, molto figa, ma è anche molto molto interessante vedere la proposta nuova di Carlo Conti. Secondo me sono due formule funzionali per motivi diversi, con dei pro e contro, sempre per motivi diversi ognuna, ma non solo per l'artista, proprio in generale, ma come tutte le cose della vita. Io penso che sono capitata in questa formula qui, me la vivo, me la godo, sono d'accordo con Carlo. Tanto è inutile immaginarmi una formula diversa, quindi mi vivo questa che c'ho, è figo, è figo. E tra gli altri 23 artisti c'è qualcuno che ti piace particolarmente, qualcuno che magari non vorresti proprio incontrare nella sfida diretta? No, anzi, io sono una masochista, io spero che considerano i più forti. A me piace questa cosa, ma mi piace perché rende le cose più piccanti. E poi, certo, io penso che siano tutti dei grandi artisti, penso che abbiano tutti qualcosa da raccontare, qualcosa anche di interessante da raccontare. Penso che siano tutti progetti con una forte identità, che secondo me è una cosa importante da emergenti i quali siamo. E in più c'è anche il mio amicone Selmi che partecipa con me, quindi per me questo è un regalone, perché avere anche la possibilità di fare un percorso così con un amicone, tra l'altro conosciuto con un talent, quindi rifiamo il talent insieme. E comunque è una gran bella cosa, siamo molto felici di farlo insieme, e soprattutto non si respira competizione in nessun modo e da nessuna parte. Ho avuto anche modo di vedere alcuni fuori da quello che è lo schema Sanremese, ci sono mandati alcuni di noi a cena insieme, mi ha fatto molto piacere. Mi piace questa cosa qui, credo che il centro di tutto ci sia, poi quella che è la conoscenza umana, quello è un po' tutto secondo me. Non per fare i paraculi, sono proprio serio, sono sincera. E invece come nasce il brano La nostra malinconia, e perché hai deciso di portare proprio questo brano invece di altri che magari avevi nel cassetto? Nasce da una conoscenza un po' più approfondita con il mio team di autori e produttori, sono Davide Simonetta, Alessandro Reina e Paolo Antonacci. Abbiamo avuto modo di chiacchierare e di approfondirci proprio in quanto persone, oltre che dal punto di vista artistico. E ho avuto la fortuna di vederli all'opera, sicuramente hanno preso un po' di ispirazione dai miei racconti personali, e mi hanno mandato questa demo, questa idea di canzone che poteva essere chissà per cosa, vediamo è, e per me era lei, un po' per tutti noi era lei, cioè si capiva da subito già solo dall'intro che era lei. Quindi che cosa significherebbe per te cantare questa canzone sul palco del teatro Ariston? Significherebbe l'inizio concreto del mio percorso artistico, detta molto più concreta, detta concretamente. E un'ultimissima domanda, hai citato anche tu X-Factor, Selmi, vi abbiamo visto settimana scorsa che eravate lì in studio, quindi stai seguendo questa edizione, c'è qualcuno che ti piace particolarmente, secondo te chi potrebbe vincere quest'anno? Ma devo essere sincera, non lo sto seguendo, però magari mi capita, che ne so, sui rille perché io seguo X-Factor, e devo dire che sono rimasta molto colpita dalla voce di Francamente, si chiama così? Sì, sì sì sì. Sono molto colpita dalla sua voce, poi appunto non posso dire i miei preferiti, non lo sto seguendo, però ho sentito una voce e quella voce mi è piaciuta, quindi spero vada avanti, spero che le auguro al meglio, come lo auguro a tutti i ragazzi che non conosco, ma che sicuramente se sono lì hanno qualcosa da raccontare. E a prescindere da come andrà a Sanremo Giovani, stai preparando un album? Certo, Sanremo Giovani non è il fine, è solo uno strumento, è solo un mezzo per arrivare a fare questo nella vita, quindi ovviamente ho la testa su album, singoli, progetto, tutti i giorni penso alla musica, tutti i giorni ascolto musica, tutti i giorni mi stimolo con un po' di cose estetiche, anche per il progetto estetico, mi diverto, bazzico un po' di qua e di là, quindi non smetto mai. E allora ti ringraziamo, e se vuoi fare un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone. Un salutone a voi lettori di Bella Canzone, grazie per questa bellissima intervista.